ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario prevomax a cosa serve prevomax a un medicinale veterinario a base del principio attivo maropitant appartenente alla categoria degli antiemetici e nello specifico altri antiemetici è commercializzato in italia dall'azienda de cra veterinari products srl prevomax può essere prescritto con ricetta rn rv ricetta medica in copia unica non ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare le vette brbv concessionario de cra veterinari products srl ricetta rn rv ricetta medica in copia unica non ripetibile principio attivo maropitant gruppo terapeutico antiemetici forma farmaceutica soluzione confezioni prevomax 10 mg barra ml soluzione iniettabile per cani e gatti uno flacone da 20 ml principio attivo maropitant 10 mg barra ml indicazioni cani per il trattamento e la prevenzione della nausea indotta da chemioterapia per la prevenzione del vomito ad eccezione di quello indotto da cinetosi per il trattamento del vomito in combinazione con altre misure di supporto per la prevenzione della nausea e del vomito preoperatori e per il miglioramento nel recupero dall'anestesia generale a seguito dell'uso di morfina agonista per i receptori anu oppioidi gatti per la prevenzione del vomito e la riduzione della nausea ad eccezione di quelli indotti da cinetosi per il trattamento del vomito in combinazione con altre misure di supporto posologia per uso sottocutaneo o endovinoso in cani e gatti utilizzare privomax soluzione iniettabile per via sottocutanea o endovinosa una volta al giorno alla dose di 1 mg di maro pitante barra chilogrammi di peso corporeo 1 ml barra 10 kg di peso corporeo il trattamento può essere ripetuto fino a cinque giorni consecutivi la somministrazione endovinosa di privomax deve essere effettuata come un singolo bolo senza miscelare il prodotto con altri fluidi fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato